è veramente una bella sensazione aver rivisto le persone frequentare il nostro locale sedersi al tavolo mangiare una bella pizza calda qui da noi speriamo sia una sensazione che rivedremo al più presto anche di sera purtroppo penso sia una misura necessaria in questo momento per uscire dalla da questa catastrofe che stiamo vivendo diciamo quasi da un anno per tornare alla normalità credo che serva perché abbiamo visto che in tutte le zone d'italia avere permesso di ritornare un minimo alla normalità ha portato tanta gente ad uscire di nuovo e ad assembrarsi l'augurio è quello di ritornare nel più presto al più presto possibile alla normalità ne abbiamo bisogno tutti tutte quante le categorie spero davvero tanto che sia un 2021 che possa portarci quello che abbiamo perso nell'anno 2020 è quello che potremo guadagnare nell'anno 2021 noi sappiamo che i prodotti che produciamo non sono gli stessi con il delivery o con l'asporto e la pizza è sempre stata diciamo diciamo un prodotto che ha unito le persone anche nei momenti di socializzazione speriamo di tornare alla la normalità